Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati in un nuovo video di Zonami. Questo è il secondo episodio che... Vabbè, prendiamoci in chiacchiere e iniziamo... ...vai... 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 ...totti crudelli. solo perché siamo va bene ok ok eccoci qua raga avevo interrotto perché farvi come si dice comunque dice la legge era vai help di nuovo vai vai e mannaggia oh stiamo facendo delle provate assurde raga c'è no morti dai cervelli vediamo un po' se possiamo comprare qualcosa amici sblocca nuove abilità per divertirci per divertire alcune missioni ma che cavolo sta di sto gioco boost posso fare il potenziamento ma non mi va poi stanno vediamo un po' vabbè c'è il biglietto della lotteria poi intanto giochiamo vai e vai e vai e vai e vai ok 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 nooo Oh il dragone ok, 1,2,3... va bene ok, oddio, oddio è fi male facciamo una cosa dovete spolliciare in questo momento in questo momento in questo momento Fai scattare il verde a 10 semafori. Facciamolo adesso. Ok. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 9 10 12 14 15 15 15 16 15 16 16 15 16 16 16 16 17 18 19 Ok. Ok.